E bella a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars Ebbene si, siamo arrivati a 2987 coppe e lo sapete bene cosa si sblocca a 3000 coppe Eh si, si sblocca boh, e allora andiamo in una nuovissima partita in sopravvivenza Andiamo andiamo, carichi, prima partita del giorno raga Perciò non so se la vinceremo, però noi ci proviamo Ah ti vuole alleare, si si, vedi come ci alleiamo T'ammazzo, l'altro ci alleiamo No, no, tu devi stare fermo Tu devi stare fermo Tu devi stare altamente fermo Perché ti denunzio E porca Due ce ne sono Che cos'è? No, no, no No, 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 no C'è questo? Grazie No, c'è anche che vediamo è il primo è il primo dai vieni fatti sotto ma che va bene ok questo è scemo che problemi c'hai va bene lo sono anch'io come l'ho detto vabbè più tre coppe dai ci avviciniamo ci avviciniamo a re bob nuova partita andiamo 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 ma anche veloce corvo secondo me va un po' più veloce dagli altri dopo non lo so però a me sembra che vada più veloce dagli altri eeeh luan de gas no bro no bro volevi non si sfotte con christian scusate la parola voleva battle pass ma dice battle pass io non ho ancora capito mi sembra che dice battle pass ma roba del genere interveniamo qua interveniamo 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 e la madonna quante ne abbiamo vabbè raga è vinta a meno che non faccio un fail della madonna e no l'abbiamo vinta sei coppe portate a casa ah sette addirittura allora andiamo dai eeeh no raga tre coppe e abbiamo bo tre coppe non la dobbiamo assolutamente perdere questa tre coppe e abbiamo bo dai tre coppe bo quando raggiungiamo bo farò una partita con lui e poi in un prossimo video eeeh vi porterò un video dedicato sulla bo dunque farò un po' di partitine a bo con bo io chiamo re bob è più bello chiamarlo così si vabbè tu questo là come ho detto prima non si può con christian e la madonna mi sta distruggendo ma fa così male bo porco due aspetta 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 eh si che non posso morire no no però sono stupido anch'io cacchio raga sono stupido anch'io ma perché vado a fare ste cagate vabbè dai non abbiamo perso niente non è successo niente non è successo niente tranquilli tranquilli ne facciamo un'altra ci andiamo appena nel nostro bel bo ora è bob come lo chiamo io tutto qua la teresina ha detto dice battle pass io l'ho detto dice battle pass ok vuoi andare te vabbè dai tenete conto che sono le prime partite del giorno perciò cioè ci può anche stare che faccio dei fail però forse è la meglio non farle potevo evitarli dai no no mi sono incastrato parco due parco due e attaccare ma c'ho troppo poca vita adesso posso attaccare adesso posso attaccare parco due quindi ho fatto il culo il culo anche a questo penso di vincere la partita si si credici credici ma intanto bo ce l'abbiamo sicuro che siamo terzi perciò bo raga ce l'abbiamo questo qua deve crepare male all'inferno che rompe perché si si ma le guarda cermente birut zio birut e questo che se vabbè camperoni se vabbè io odio quelli che camperano raga cioè non esiste che uno campera così madonna ormai sono tutti camperoni tutti i camperoni merci maiali vabbè dai prendiamoci il nostro bel bo e raga ci abbiamo bo l'abbiamo sbloccato proviamolo subito beh intanto leggiamo perché cioè è fighissimo bo oh ho schiacciato vabbè sono stupido andiamo a provare bo eccolo qui pum 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 andiamo a provare bo troppo figo troppo 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 figo perché cioè è figo non solo perché spara e va anche tanto lontano perché guardate va lontano e ne lancia tre che fanno male ma anche perché dopo mette le mine l'abilità scacciare è bella è quella cacchio può mettere le mine secondo me è fighissimo anche lui bo qua quando sono più forte io cheat la perdo e vabbè abbiamo perso vabbè più tre dai vabbè il video può finire qua spero che vi sia piaciuto polliciate commentate condividete a tutti i vostri amici e ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi a tutti i vostri amici a tutti i nostri amici